E ragazzi, come va? Io sono FeriNiki E io sono Steff e benvenuti in questo nuovo vlog Ma ovviamente non sarà un vlog classico Perché abbiamo deciso di registrare questo piccolo video Per passare insieme a voi Uno dei traguardi più importanti della nostra vita Ho un'ansia incredibile a fare Ovvero i centumila scritti Mi sta dando fastidio il numero Ho tremando in questo momento, sì, ho un'ansia incredibile pure io Ho fastidio Non lo volevo fare perché è davvero fastidioso Rimanere a guardare un numero tutto il tempo Però ve lo dobbiamo assolutamente Perché questo traguardo ormai è arrivato Ed è davvero un qualcosa di meraviglioso In questo momento lo tolgono e lo rimettono Perché le persone vogliono beccare il centumila tondo iscrivendosi Quindi vedremo costantemente il numero a scendere e salire Però credo che basterà aspettare qualche minuto e ci saremo Allora, prima di tutto lo speciale Ovviamente non è questo Uscirà domenica alle 11 E abbiamo scelto uno speciale davvero particolare Stavamo valutando, diciamo, reaction ai nostri vecchi video Stavamo valutando Omg Stavamo valutando la Droma Life Tutte quelle che ci avete proposto Perché non sappiamo dire i nomi di nulla Come siamo poco esperti di speciali Stef non le pronunce, è troppo bravo No, ma li hai sbagliati tutti Ce lo dico io Lo so, lo so Grazie E dicevo, abbiamo scelto però una cosa particolare Perché un consolino ci ha inviato una canzone E un gesto davvero genuino Non ce l'aspettavamo Ci è arrivato da un giorno all'altro Questo speciale Esatto E abbiamo deciso, diciamo, di premiare questo gesto così genuino L'abbiamo apprezzato davvero tanto È davvero carinissima la canzone E quindi abbiamo detto No like, facciamo questo Perché vi vogliamo lasciare la sorpresa È davvero bella È proprio una canzone per i centomila Dedicata a tutti i consolini Proprio voglio dirlo questo Però non diciamo altro perché è davvero bellissimo Io appena l'ho sentita Cioè mi sono troppo emozionata Perché è stato davvero un bel gesto Non ce l'aspettavamo sinceramente Non era richiesto Esatto, non era richiesto Quindi è piacevole vedere anche Che delle persone fanno un qualcosa per te Senza che tu chiedi nulla E quindi abbiamo deciso di utilizzarlo come speciale Vi piacerà di sicuro Esce domenica alle 11 Quindi ricordatevelo Domenica alle 11 uscirà questa canzone Dopodiché usciranno due video come sempre Facciamola diventare la nuova hit di YouTube Italia Ecco qua che deve esagerare Lo dico, lo dico Perché vi piacerà Quindi ce la faremo E la prossima sarà cantata da Steph No, no Almeno il consolino sa cantare Steph, no So cantare anche io, Fede So cantare anche io Questo è un messaggio un po' per tutti I centomila iscritti sono un traguardo importante Sì, ma lo raggiungono tante persone Tante persone sono un milione Due milioni C'è Favij a tre milioni Esatto E diciamo ci sono tanti motivi Per rendere centomila iscritti Più piccolo di quello che è Però questo vale per tutto La bravura e i traguardi Che si riescono a raggiungere Non vanno, diciamo Fatti sprofondare Nella bravura di qualcun altro Cioè se siete bravi a giocare a calcio Siete bravi a giocare a calcio Non importa che esista Messi, Cristiano Ronaldo Siete bravi Punto E quindi date valore A quello che sapete fare Date valore alle cose che raggiungete Perché ce l'hanno un valore E la gente tende a sminuire le cose Sì perché Esatto Fanno sempre un confronto Neanche magari per cattiveria Ma c'è sempre Il Eh ma questo è qua Ok Sono a centomila iscritti È bellissimo Non me ne frega nulla Se ce n'è una a tre milioni Tipo Un anno fa Noi ci sognavamo Una cosa del genere Cioè pensavamo Chissà come sarà Chissà se mai ci arriveremo Perché ovviamente Non è una cosa scontata Sì lo raggiungono tanti Ma tanti altri Non lo raggiungono Quindi Il senso del discorso Dato che Ferinichi Va sempre off topic Ascolta Non si è capito niente Di quello che hai detto tu Quindi cosa vuoi da me Secondo me si è capito totalmente Quando avete qualcosa Quando siete bravi in una cosa Non fatevi sminuire da qualcun altro Siate felici perché Sapete fare quella cosa E fregatevene Se c'è qualcuno I più bravi di voi Ovviamente Continuate a cercare di migliorarvi Continuate a cercare di crescere Eccetera eccetera Ma godetevi Le cose che avete Perché altrimenti La gente vi farà sempre sentire Più scarso di qualcun altro E non è giusto che sia così Come hanno fatto anche con noi Come hanno fatto anche con noi Canale e vita privata ovviamente Cioè Certo anche con noi Un'otto a scuola Eh ma c'è quello che ha mercato nove Una partita giocata bene a calcio E ma c'è uno più bravo E sempre così Godetevi le cose che raggiungete Perché Si raggiungono poche volte nella vita E non è giusto Farsi sminuire da qualcun altro Assolutamente sì Adesso aspettiamo Che ne mancano solo sette Fere Fere ne mancano due Fere ne mancano due Adesso caleranno Di nuovo a novecento Non si sa Non collassare Fere È faticosissimo Stare a fissare un numero Guarda mi mette più ansia questo Di tutti i video Che abbiamo sempre Poi noi non siamo persone Che sono brave a parlare Quindi io lo so che abbiamo provato A fare un discorso carino Ma in realtà abbiamo fatto schifo Cioè io lo so già questa cosa È carino a modo suo Quindi mi sto venendo ancora più ansia Abbiate pazienza Che fastidio Se saperemo Fere Quindi non riesco più a parlare Chiama i cugini e falli scrivere Su forza Non ne abbiamo Lo so Nessuno ci calca Non abbiamo nessuno Ok Uno Dai 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 Ok Ok Dai Dai Tanto poi quando fa il cento Riscende Però almeno Fatelo per un secondo Ci basta un secondo Dai Guarda crollo E basta Ce l'abbiamo fatta Fere Che bel numero E si mette a piangere L'abbiamo persa Fere L'abbiamo persa Fere Io lo sapevo Continuo a far fare Le reazioni in diretta Mi metto una scorsa Vabbè Perché sono felice Vabbè No sei triste Immaginavo Oh mamma Sto tremando Dai Grazie 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 mille Era il minimo Che potevamo fare Aspettarlo qua insieme a voi È davvero una cosa Che ci sognavamo Beh Enichiro piange mai Da tanti anni Quindi La apprezziamo Da avere un sacco Allora se contiamo anche il vecchio canale Siamo tipo da tre anni Quindi Vedere un traguardo così adesso È davvero Cioè sto davvero tremando E quindi E niente È troppo bello Non ho parole Non so cosa dire Sembrerò stupidissima Però grazie 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 Guarda come sta lescendo tutto il tempo Pazienza Pazienza Almeno li ho visti Quindi grazie E ora tutti gli iscriviti su Instagram Dai si Quindi grazie per averci permesso Di realizzare il nostro sogno Grazie per averci portato Fino a qui Vi amiamo Vi amiamo Davvero Grazie mille Grazie mille Grazie mille Domenica alle 11 Esce lo speciale Speriamo che anche questo video Lo apprezzerete E alle 16 Uscirà un video Che è davvero importante Per noi Non quanto qualcosa del genere Però ci teniamo tanto Quindi ragazzi Ci fermiamo così Per questo video Che altrimenti dura un sacco Doveva durare 5 minuti E credo che ne durerà Come sempre parliamo troppo Almeno 10 Grazie ancora Davvero 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 Ci teniamo tantissimo Non ce ne frega nulla Di quanti iscritti hanno Gli altri canali In questo momento Per noi Sono 100.000 persone Che seguono il nostro lavoro E sono già decisamente troppe Quindi Grazie mille